Grazie e bentrovati. Guarda, la cosa più importante che ci ha insegnato l'etica della tecnologia a partire dal 1980 è che quando una tecnologia tocca un contesto sociale non è mai neutrale, ma diventa una forma d'ordine e una disposizione di potere. Se io faccio un'autostrada, dove metto le uscite e i caselli, dà potere a qualcuno e ne toglie ad altri. Gifoni è una piazza, è una piazza che nasce da un sogno e che dice che c'è un potere di far accadere cose che si desiderano se si lavora insieme e se si lavora fino in fondo su questo tema. E allora parlare di intelligenza artificiale, cioè parlare di algoritmi che oggi possono dare a qualcuno un prestito a negarlo ad altri, possono aiutare qualcuno ad essere nemici di altri e farlo in questa piazza dove ha detto che è importante perseguire un bene più che l'interesse di qualcuno, secondo me è rivoluzionario, è di una potenza enorme. Per questo Gifoni ha quel carattere unico che può dare anche all'intelligenza artificiale e alle generazioni che si troveranno di fronte all'intelligenza artificiale un qualcosa di più. Dunque, la distanza è stato un po' per un bel po' di secoli il nome che abbiamo dato a Dio. Dio come questo mistero sul monte, il ruolo è tardente. E poi però c'è un'esperienza, che è l'esperienza dell'incarnazione, che invece ce l'ha mostrato vicino il francescanesimo. Pensate a San Francesco con il presepe, ce l'ha proprio mostrato come un Dio che ha a cuore ciascuno di noi e le sue fragilità. E analogamente l'intelligenza artificiale, che sembra così intima, così vicino, però ci mette di fronte a un mondo che a volte è molto distante e che a volte è un'illusione. Il fotoritocco, l'intelligenza artificiale, oggi è visto da molti come un qualcosa che per esempio propone modelli di corporeità femminile che sono impossibili da vivere, che sono un'illusione, anzi che corrispondono a particolari patologie. C'è stato un periodo in cui andava di moda il bikini bridge, no? Il fatto che quando una ragazza si stendeva su un lettino le ossa del bacino potevano staccare il filo dell'elastico del bikini dal corpo. Ma quello è un sintomo di malnutrizione. Allora, se l'intelligenza artificiale ci dice che quello è il bene di un immaginario collettivo, ecco, quello è un'illusione, quello è una finzione. E non solo non è intima, ma è distantissima, è distantissima da quello che possiamo essere. L'intelligenza artificiale invece può aiutarci come strumento creativo a immaginare il mondo che desideriamo. E allora ecco che questo lo fa prossimo, lo fa pensabile, lo fa possibile. È come un grande pennello. Può aiutarci a dipingere la più falsa delle scene o ad aiutarci a realizzare il futuro che desideriamo. Beh, io direi che c'è un tesoro qui, no? In un paese come l'Italia, in cui 40 province in Italia hanno più pensionati che lavoratori, vedere tutti questi giovani, vedere questo desiderio di futuro ha una missione fondamentale. Ricordarci che è loro il mondo, ricordarci che è vostro, ragazzi, il futuro e che noi dobbiamo essere in qualche misura quella generazione che vi lascia qualcosa di bello da vivere, che vi lascia degli spazi per sognare. Grazie per avermi fatto percepire questi desideri, questi sogni, queste speranze e vi auguro di poterli realizzare.